Attenzione, questo è solo un videogioco, i Nutri Flame Pro contro la cazza verranno rimossi, ricordati che è solo un videogioco Ciao ragazzacci, io sono Mito125, facciamo qui su Cabela Big Game Hunter Pro Hunts, ho letto il titolo perché non riesco mai a ricordarvelo Nord-Est, noi dobbiamo prendere questo Caribou, Rendebou, cattura un Caribou da uno stand o un blind, va bene, va bene Mi porto, non mi dice che cosa portarmi, quindi aspetta un attimo, mi preferisco l'altro, io così posso colpirlo un po' da lontano Quindi fatemi sistemare qui questo, si, 7, 7, Shent Mask e poi ci metto, me ne porto altri 7, che mi servono, non si sa mai Meglio averne 7 in più che 7 in meno, allora qui non so veramente dove possa essere la prima volta Andiamo qui, quindi ci conviene andare qui sopra, tanto qui non c'è nessuno e noi ci conviene andare lì Ok, ok, sperando di trovare poi qualcuno, quindi andiamo da questa parte e speriamo di beccare qualcuno Ok, c'è un orso, c'è un orso, ma io se lo vedo lo prendo, a me che me frega Cioè, lui mi dice che non lo devo prendere, ma non è che ho firmato un contratto, io lo sparo l'orso, guarda, è lì Cioè, io penso di riuscire a prenderlo Vediamo un po', vediamo un po', eh, ma con queste qua non ce la faccio di sicuro a buttarlo giù l'orso Dimmi che entri fino, eh, l'orso è grosso, l'orso è grosso Tanto qui non mi può attaccare, vediamo un po' quello che mi dice Eh, lo devo prendere adesso, cavolo, ho sbagliato, ho sbagliato, devo rifare il restart, ho sbagliato tantissimo Cambio tattica, vado dall'altra parte, vediamo se riusciamo a trovare qualche Caribou Poi questi Caribou mi sembrano dei cervi più grossi, non lo so, non ho mai sentito parlare di Caribou Speriamo di beccare qualcosa, qui non c'è niente, io sto andando dove è possibile Allora, qui non dovrebbe esserci nessuno Qui però sì, dai, quindi proviamo ad andare da questa parte È difficile perché non ci sono zone, vanno a mangiare o a bere magari in questo orario Quindi è un po' particolare, magari riesco a beccarlo da questa parte Dobbiamo camminare un po', non posso neanche correre Beh sì, un po' corro perché sennò per fare 200.000 km qua ci metto una vita, ci metto Guardiamo se c'è qualche Caribou a parte quella Volpe lì che non serve a niente Ma io Caribou non ne vedo qua Eh, niente Caribou, guarda, a parte sta Volpe che mo' gli sparo neanche lei se ne immagina No, niente, non riesco a trovare un Caribou che sia uno Eh, dove stanno? Allora stanno qui su lungo il fiume, per forza Allora mi conviene andare a guardare qui prima e poi scendo su questo, su quest'altro nascondiglio Eh, io non neanche li sento perché Caribou mi sa che sono animali silenziosissimi No, qui non c'è nessuno lungo questo fiume, quindi stanno bevendo, stanno bevendo più sotto A parte sta caspita di Volpe che mi dà solo fastidio Eh, io scenderei fin qua, quindi scendo, tanto il vento ce l'ho, ce l'ho dal verso giusto, va bene Ok, eccole, Caribou, Caribou, sono tutte però femmine No, no, questo è maschio, 479 è buono Se io riesco ad arrivare lungo il fiume senza farmi... eh, mi sentono, mi sentono, devo fare piano Piano, piano, se quello diventa giallino è... eh, qua ci sono questi ramoscelli per terra, è un po' un problema Devo arrivare lì e li prendo Eh, è sempre verde, perché comunque... cavolo, sta scappando? Non mi dire che... è rosso, è rosso Se ne sta andando, ma porca miseria se ne stavano andando, erano qui, erano A Caribou, a belli de mamma Allora, erano rimasti dei Caribou qua, eh, mi hanno fatto preoccupare per niente Vediamo se riesco a recuperarli Sono saliti di là, sono saliti, Caribou maschio A me la femmina non mi serve, la femmina non vi dà punti in questo... in questo gioco Non vi fa fare neanche l'obiettivo Ok, qua ci sono le tracce di Caribou, io provo a salire su questo stand e vedere se riesco a prenderne uno Ti prego, uno solo me ne basta Uno e ho finito l'obiettivo Eh, ma sono lì dietro sono, come ci arrivo io lì dietro? Cioè, loro sono qui dietro, dovrei fare il giro di qua Eh, qua cosa che c'è? Spot, ok, l'ho visto uno Eh, mi conviene andare qui allora Dall'altra parte, faccio il giro di qua e vediamo che cosa succede La strada che sto facendo non è per niente buona Perché qui ci sono tutti questi alberi che fanno un sacco di rumore Peraltro mi sono anche bloccato, come è possibile? Sono alberi invisibili ma mi bloccano Ho sentito qualcosa lì davanti, non so che cos'è Eh, è una famiglia questa qui, eh Questi potrebbero essere i caribù Quindi andiamo piano piano per 26 metri Purtroppo qui la zona non mi aiuta per niente Perché loro se mi vedono scappano subito via Cioè, sono animaletti veramente diffidenti Caribù femmina, ok Qui ci sono dei caribù ed ecco il caribù maschio È quello che mi serve Il problema è che devo per forza sparargli da un qualche aggeggio Quindi da una qualche postazione Allora, questo devo prenderlo per forza Non ho tempo da perdere Fatti prendere, fatti prendere, fatti prendere Ok, speriamo sia quella volta buona Perché se no non ne trovo più Non trovo il caribù, non trovo Uuuuh Non serve a niente questo colpo Eh, non serve a niente Proviamo a rincorlero Allora, sangue ce n'è, non è che non ce n'è Però devo sperare perché io non posso più sparargli Il sangue lo vedete per terra Vedete questo qui? È tutto sangue Speriamo che muoia nel frattempo Perché se no non so come fare a prenderlo Un colpo al collo e lui ancora corre Con tutto sto sangue che ha perso Doveva cascare un attimino Ok, sono lì sono Vedete questo qui non è il mio Però io come ci arrivo lì? L'unico è salire su quest'albero un attimo Perché devo prenderne uno sicuro Quindi saliamo su quell'albero lì Eh, ma ha visto però Ma mi vedono subito, mi vedono Non puoi fare niente, non puoi fare Rincorriamo il mio che si sentiva poco bene già Non riesco a vedere neanche bene bene le tracce io certe volte Mi perde la traccia del sangue È un casino però Vabbè, loro sono andati qua Perché di solito seguono sempre i sentieri Eccoli, eccoli, eccoli Sono lì in fondo Non li vedo ancora Ma sì, è lì, è lì, è lì, è lì Eh, ma questo è White there Ok Proviamo a trovarci qua Un sistema dove nasconderci Qua sistemi dove nasconderci Non ce ne stanno Mi sta vedendo Mi sta vedendo Scappa, 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 scappa Eh, mi sa che scappano anche loro però Sì, ma sono un po' bastardelli, eh Sono difficilissimi sti caribù Non è la prima volta che provo a fare sta missione Non riesco mai a portarla a termine Fammi vedere dove stanno Se ne sono andati Ne vanno che è una bellezza, oh Quello è un coniglio Se ne sono andati via Eccone uno È quello mio È il vecchio mio Vi ricordate quello che dovevo prendere prima? Troppo lontano È troppo lontano Però aspettate che sta arrivando Lì c'è la femmina Eh, purtroppo il vento non è a favore Però lui segue le femmine, è vero? C'ero io Qua riesco a prenderla, no Non ce la faccio Neanche ci provo È il mio, è il mio Perché mi dice seriamente ferito E quindi lo devo tenere sotto d'occhio 30 minuti mi scade anche il tempo per prendere sto coso Cavolo è un po' difficile È un po' difficile Se si avvicinasse Lui io ci provo a sparare di qua Io ci provo, io ci provo Vai, vai, vai Qua, qua, qua Io provo a sparargli di qua Perché 30 minuti finisce il tempo Non può resistere a due proiettili in corpo Cioè cavolo Se se ne va adesso è impossibile Ok Ok Andiamo a prendere, andiamo a prendere È lì Claim your trophy È lì davanti più o meno Cioè credo Non ne sono tanto sicuro Mi son perso, mi son perso Dove caspita li ho sparato io? Io guardavo dove? Mi scusi, dov'è lei? È da quella parte Quindi è verso ovest Troviamo ovest ovest È da questa parte Più o meno O forse è quello Ma non si capisce mai niente Non si capisce Sì, sì, è quello lì Vai che forse ce la faccio Uh, se ce l'ho fatta adesso è fantastico Ed è sempre quello che avevo colpito prima Quindi Due colpi ho dovuto sparare È un animale tenace È bello duro Qua passa, 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 passa Vai, ok, prendilo È stato difficile È stato Perché l'ho ripetuto due volte Sta missione Non riuscivo a A prendere un caribù È difficilissimo Prendere il caribù Vabbè, comunque ci danno 2425 2425 crediti Noi ci vediamo Nella prossima puntata Sempre qui Su Cabela Sperate un attimo che lo vada a leggere Big Game Hunter Provence Ciao 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 Ciao